RAGIONIERE! Ecco! Dov'è? 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 È già! È già! È già stato promosso arcangelo! Siete già alla destra del padre! Dov'è? RAGIONIERE! Sono qui, nel mio ufficio! Arrivo! Venga, corre! Arrivo, 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 arrivo! Arrivo, 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 arrivo! Eccomi! Ma maestà! Ecco! Ecco, veda qua! Ma che cos'è? È un rebus, sono un rebus! Ma si vergogni! Si vergogni! RAGIONIERE! RAGIONIERE! Forza, corra, 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 corra! Corra, 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 corra! Corra, corra, veloce! Corra! Dov'è? 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 Non l'ho ancora detto dove, no? Ecco, me lo dica, pietà! È una cosa riservata e personale! Sì! RAGIONIERE, vada in farmacia! Sì! E mi compri dei contraccettivi maschili! Sì! Va! Dei contra... Dei contra... Dei contra... No, no, c'è una cosa un po'... Dei profilattici! Ah, dei pro... Ah, ho capito! Dei profilatti metallici, dei... In ethernet, ondulati, quelli per fare le... Non faccia finta di non aver capito! Non faccio finta! Forse lei fa l'amore senza? Sì! Senza! Senza donna! Senza niente! Senza! Vada subito! Sì! Vada subito o sarà crocifisso in sala mensa! Ma mi vergogno! Corra! Corra! Ma mi vergogno! No, si vergogna, vada! Arrivo, 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 arrivo! Arri... È chiuso! È chiuso! È aperto! No! No! Faccio... Che stai facendo? È una specie... Faccio... Ma cosa vuole? È una specie di ginnastica! Niente! Non voglio niente! Dica che cosa vuole! Niente! Che cosa vuole? Passavo di qua, niente! Allora io andrei... Cosa vuole? Che cosa vuole? Dunque... Ci sente nessuno, allora io... No! Parli pure! Che cosa vuole? Volevo dei... Dei... Dei sì! Volevo... Volevo dei... Dei pre... Dei pre... Pre... Preparati per la tosse! Ecco qua! Preparati per la tosse! Ecco! Eccoli qua! No! Volevo dei pre... Dei pre... Quello! Pre... Preconfezionati! Preconfezionati! Eccoli qua! Preconfezionati! 200.000! Pago dopo, forse! Volevo anche dei... Ma... Volevo anche dei... Ma... Volevo... Volevo dei... Pro... Dei pro... Dei prodotti... Dei prodotti... Dei prodotti... Per la moschia... Per la moschia... C'ho un po' di moschite... C'ho un po' di... Un po' di moschia... Non capisco... Ma che... Che facciamo? Volevo... Dei... Dei pro... Dei pro... Dei profili... Profili... Dei profili egisi... Profili egisi... Che che... Sulla piramide... Il piramidone... Il piramidone... Il piramidone... Si... Un chilo... Un... Un grammino... Due fettine... Senza grasso... Che mi rimane qua... Che cosa vuole? Aspetta... Scusi... 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 Non capisco... Io volevo... Eh... Usa... Volevo... Ma non mi... Volevo... Aaaaaaaah... Shhh... Lei vuole un preservativo? No... Loro vogliono quella cosa lì... Lo potevo dire prima? Lo potevo dire... Pasquale! Pasquale... Porto una scatola di preservativo al signore... No... Alla signora... Come ha signora? Si... No... Solo per me... Solo per quel belletto mascalzone... il mio mega direttore, che lui con tutte le sere cambia d'oro, se ne mette quattro per volta, poi si mette il impermeabile, poi promesso, mette, ma chi è, cos'è, è uno, è solo per me, solo per me che sono un noto maniaco sessuale, un fornicatore, altro che nove settimane a me, togne anche un mese a me. Oh geniere, oh geniere, dica la verità, lei ha lasciato il lavoro per rifornirsi di queste robacce, lei è un maniaco, un pervertito sessuale, e allora sa cosa le dico, che lei è un maledetto mascalzone, lei è stato messo qua dal suo partito per dare tangenti a tutti con i nostri soldi, va a donna, ce la cambia tutte le sere, lei è un maledetto mascalzone sessuale, un maledetto figlio, che dice, che dice, che dice, chi ha parlato, c'è un ventrilo qui sala, non sono stato io, mi perdoni, mi vergogno, mi perdoni, guardi, aspetti, aspetti, casualmente ce l'ho qua, mi picchi, guardi, mi picchi, lo faccio, non ci piace, guardi, aspetti, aspetti, mi pialli, mi pialli, lo prego, aspetti, ne ho un altro, guardi, mi macini un dito, aspetti che si intriga, mi bacini un dito, uno solo, no, ragioniere, la faccia finita, lo sa che cos'è lei? No, non lo so, lei è uno str, str, uno stradivari, violino stradivari, no, no, lei è uno stro, uno stromboli, vulcano, no, lo dica di fronte a tutti quello che è, ma lo sanno già, ce l'immaginano, uno str, uno str, una stramerdaccia, non esatto, venga via, la prego, la prego, la prego, la prego, pietà, 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 il destino, noi vorremmo sottrarci a questa crudeltà, ma la vita ci costringe sempre in qualche modo ad affrontarla, ma grazie a Dio adesso la vita in questo momento è, come dire, particolarmente generosa, perché noi adesso abbiamo